Grazie a Biancole che è un ricordo di Lorella Cedroni. Quando fu il professor Vasale a suggerirmi di invitarla e all'inizio volevo capire se poteva entrare in questo modo di guardare la comunicazione che non è un modo tecnico ma è un modo legato alla cultura, la cultura in particolare. Era in una facoltà di lettere nel corso di laurea in scienze della comunicazione e lei aderi subito, capì subito e quindi abbiamo avuto degli anni di bellissima collaborazione, una bella esperienza positiva. Quindi per l'Umsa è una perdita sia a livello umano che professionale? Sì, per l'Umsa è una perdita anche perché lei ha continuato a collaborare con l'Umsa anche quando era alla Sapienza, era per esempio nel collegio docenti del nostro dottorato di ricerca, quindi è una perdita senza altro. Però è un acquisto come idea, è un acquisto in quanto è stata una donna grande, una donna importante e coerente che non è poca cosa.